Il C2E3, mi ha già parlato sia il professor Cotarelli sia il professor Rossi, parla delle spese dell'andamento del personale. Come vedete, quando sono arrivata la spesa del personale era di 30.133.000 erotti e l'abbiamo portata nel 2014 a 23.647.000. Tutto questo è stato fatto senza fare quella che viene definita molto spesso in termini un po' brutale, macederia sociale. È stata fatta con i pensionamenti e soprattutto con un intenso lavoro di collaborazione con altri enti. Quando avevamo notizia, poi in provincia è molto facile, anche regione direi che altri enti cercavano personale, cercavamo su base volontaria di fare i concorsi, di formare personale per poterlo trasferire in altri enti. tipico.